Come si trattava la sessione di trening? Come si trattava la sessione di trening? Ora stiamo facendo una sessione completa, ma sicuramente non era facile affrontare questa situazione e trattare i giocatori. Perché 12-13 giocatori sono molto difficili anche per provare qualcosa in un aspetto tattico. Se volete spiegare in una formazione e avere 20 giocatori, non è facile fare questo. Non è facile, non è facile, non è facile. Abbiamo avuto 50% della squadra con Covid-19, e il staff, quasi quasi tutto, e ora stiamo fuori da questa situazione. e quindi si trattava la sessione. Non è facile, non è facile, ma è facile.